Da! Pronti? Metti a terra, va! Da! Pronti? Si, per poter andare avanti e raccontare! Chi? La fulvia! Per quanto? Accompagnato? Diego, ora! Accompagnato? Un po' Passi un po' Vai! Ma roba hai fatto il bello! Ah! Ah! No! Come managgia la mia figlia? Ok! Come managgia la mia figlia! Oh! Come managgia la mia figlia!